GF VIP, Antonella Fiordelisi lo caccia da Luca Onestini incredulo fa questo gesto. Nella casa del grande fratello VIP, Antonella Fiordelisi è andata su tutte le furie per l'ennesima volta ed è stata vista cacciare Luca Onestini dal confessionale. Per entrare al suo posto e scagliarsi contro il gruppo. Mi avete stufato, parlate di altro. Ha urlato Antonella sulla soglia del confessionale. Luca, buttato letteralmente fuori, è rimasto incredulo davanti agli altri inquilini. Chi sono scoppiati a ridere, ti hanno cacciato fuori, hanno esclamato agli altri. Peccato non lo abbia cacciato dalla casa. Sarebbe stato top, ha commentato un utente su Twitter. Io la sposerei solo per questa scena ha scritto qualcun altro. Foto credits, per gentile concessione dell'ufficio stampa and emulsine Italy Music, Drams from Ben Sound. Come leggi anche, GF VIP, anche Oriana l'ha notato, il retroscena del trucco colato di Antonella durante la puntata. Tu meretate printre talea culte, incerc flow-uri sute la show-uri buite. Cum rup capete, lumea de din capă rupte. Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi, ține pentru tine. Fii egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic a vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu? Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, parasiții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimaru, spike, puia, si, swap-o, grasul nimeni altu, delvede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers card intens. Trebuie să vă mulțumim pentru vizionare!